La magia del Natale a Montecorgi prevista per domenica 22 2019 dalle ore 15 alle ore 22 presso il centro storico di Montecorgi Capoluogo organizzato da un gruppo di volontari a causa delle previste condizioni meteo è stato spostato e rinviato a domenica 29 dicembre 2019 sempre dalle ore 15 alle ore 22. Troverete sempre animazione e musica a cura di Lianagrama, mercatina di artigianato, spettacolo teatrale Favole e Folle di Laura Mauro, Flash Mob Zumba a cura del Life Fitness di Laura Marrone. Troverete inoltre un percorso enogastronomico preparato eccellentemente dalle attività commerciali di ristorazione e bar. Infatti potete trovare presso Catania Cucina pizzeria, paste, fagioli e cozze, zeppoli con alici, ristorante e pizzeria da pippo, pizza fritta, fusilli e cavatera del ragù, ristorante e pizzeria alla pista, porchetta e patatine, e bar celentano, panino, salsicce e patatina e panino, salsicce e broccoli. In più degli ultimi dolci preparati dalle signore appartenenti al gruppo di volontario. Quindi appuntamento a domenica 29 dicembre 2019 dalle ore 15 alle ore 22 per la prima edizione della Magia del Natale a Monte Corice.